Ciao Luca! Benvenuti in BFU! Che sei venuto a fare qua da noi? Sei bravo, sei bravo, fa tutto lui! Rischare la vita e sperare... Ha detto rischiare la vita e non stringere troppo! Dai! Ti ricordi tutto del briefing e quello che andiamo a fare? Cosa più importante? Sorridere, sorridere! Sorridere e divertirci! Ti auguro tutto il bene! Non so augurarti! Ci vediamo per aria? Generalmente! A uno su due! Tranquillo! Ci vediamo per aria? A dopo! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.